Possiamo fare di meglio No waste Filetto fish Però un po' gourmet Acqua, aceto, sale e zucchero Cucumbro Aneto Quando bolle Tutta nei cetrioli facciamo raffreddare Un tuorlo Senape Iniziamo a montare Olio a filo Quasi rilassante Più aggiungete olio più diventa thick Sale Aceto bianco Succo di limone Maio fatta Tritiamo i cetrioli Diventa salsa tartare con cipolle e pico Cieni cieni Merluzzo Come un samurai In una ciotola solo farina E nell'altra farina Paprica Un uovo E un po' di birra Shakey shakey e creiamo una pastella Odio di semi di pentola Merluzzo nella farina Yey Pastella Yey E giù nell'olio A me piace tanto Crespi quindi Tempura Style Via dall'olio Definizione di Quest Bay Pane bello Quest Bay Pane Cheddar Pure doppio Sala e lasfinut Pesciolino Salsa tartara E cappellino È bellissimo